A 12 anni dall'attentato alle torri gemelle, i lavori di ricostruzione procedono a pieno ritmo. Il nuovo Ground Zero, infatti composto da 4 nove torri, la numero 1, la principale, detta anche Freedom Tower, dopo ben 7 anni di lavoro e 4 miliardi di dollari, un vero e proprio record a livello internazionale, ha raggiunto i 1776 piedi di altezza, un vero e proprio omaggio all'anno di dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Pensate che il 70% dell'energia necessaria all'edificio sarà prodotto grazie alle energie rinnovabili, tra queste abbiamo pioggia, vento e neve, sono infatti 1200 mm di precipitazioni annuali a New York, acqua che potrà essere utilizzata anche per riscaldare e raffreddare gli ambienti, ma anche nei sistemi di antincendio o per l'irrigazione delle aree verdi.